Sono 30 i consiglieri regionali delle Marche più il Presidente insediato ufficialmente questa mattina ad Ancona. Seconda legislatura per il consigliere fanese Mirko Carluni, debutto invece per Renato Claudio Minardi, Boris Rapa e il sindaco di Mondavio Federico Talè. Sì, sono emozionato come se fosse la prima volta. Devo dire che questa legislatura rappresenta, per come ho vissuto la campagna elettorale, una grande sfida. Sento in me la responsabilità anche di chi ha chiesto i voti a tante persone e ha raccolto tante testimonianze di sofferenza, di difficoltà, di imprese in crisi, di famiglie in crisi. Dicevo nell'intervento di Ceriscioli la parte mancante che io ho sottolineato nel mio intervento è che non ha parlato della famiglia. Il modello di impresa marchigiano si basa sulla famiglia ed è quello che è in crisi, cioè il fatto dei genitori che non riescono magari più a delineare una direttiva, un consiglio, un aiuto ai propri figli, di non riuscire magari a passargli l'impresa familiare come avevano sperato o comunque di ragazzi, di giovani disorientati. L'altra sfida su cui Carluni ha contestato l'intervento del Presidente Ceriscioli riguarda la sanità. Diceva che i marchigiani sono soddisfatti del sistema sanitario, io ritengo che chiunque intervistato specialmente nella provincia di Pesero Albino direbbe che non si sente sicuro dei propri ospedali e questo è testimoniato dai dati di mobilità passiva verso altre regioni che vedono i nostri concittadini andare in altri ospedali per trovare sicurezza e cure sanitarie. È un dato emergenziale, ha detto il precedente Assessore Mezzolani del PD, ha delle responsabilità sull'organizzazione sanitaria, è necessaria una riforma. Dobbiamo fare un'attività legislativa, produrre norme semplici che possono essere quelle che la gente si attende per poter dare dei segnali di positività e di speranza. Emozionato anche l'ex Presidente del Consiglio Comunale di Fanno, Renato Claudio Minardi, che inserisce tra le priorità la Fanno Grosseto, una sanità di serie A con un'assistenza adeguata per tutelare il diritto alla salute, ma anche semplificare la burocrazia per agevolare i cittadini, le imprese marchigiane e creare nuovi posti di lavoro. Beh sì, è un po' come il primo giorno di scuola, ovviamente è un impegno che ci siamo presi con la comunità del nostro territorio, con Fanno, ma con tutta la provincia di Pesero Urbino e da oggi siamo rappresentanti di tutte le marche. Oggi c'è un po' ovviamente di emozione perché sapere di rappresentare la comunità marchigiana è un ruolo molto importante che ci dà grande orgoglio ma ci dà anche grande senso di responsabilità perché è un lavoro da far tremare i polsi. Come ho sempre detto durante la campagna elettorale l'elezione non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza. Da oggi si inizia a lavorare per i prossimi cinque anni a disposizione dei cittadini e in mezzo ai cittadini come sempre. D'accordo con il presidente Ceriscioli sul fatto di dover puntare anche sul turismo e sugli eventi culturali e di qualità è l'ex presidente di Assoturismo Marche, Boris Rapa. Sì, le parole del presidente mi fanno piacere proprio perché ha sottolineato più volte l'importanza di un settore strategico quale è il turismo e adesso bisogna iniziare a lavorarci. Sperava in una delega ad assessore? No, sinceramente no, sono la mia prima esperienza e darò il mio contributo come consigliere. Tra i banchi dell'aula consigliare è anche il sindaco di Mondavio Federico Talè. Inizia ufficialmente oggi un grande lavoro, su che cosa è necessario puntare? Ma intanto come ha ben detto il nostro presidente Luca Ceriscioli sulla trasparenza e sulla partecipazione. Penso che questo debba essere un consiglio regionale con un tono molto ma molto più vicino alla gente. Quindi dovremmo noi consiglieri regionali stare vicino agli amministratori locali che gli amministratori locali sono sicuramente tra la gente. Su quali settori in particolare? Ma il settore in particolare diciamo da subito quello della sanità, quello del sociale. Il presidente ha già preso questo impegno quindi di ripristinare i fondi sul sociale e poi tutto ciò che riguarda l'agricoltura e il turismo. Agricoltura e turismo naturalmente sono collegati.